Questo l'è? Vincolo l'è! Amici! Amici ma soprattutto amiche di Radio Radioattiva, buonasera! E benvenuti nell'unico programma dove il cocktail si sciega e si gusta mixato dalla buona musica! Questo è Drink on Air, il suono del cocktail! Buonasera! Buonasera a voi! Secondo appuntamento special edition di Drink on Air con White Spirit e la vodka! Qui con noi, sempre presente al suo posto, agli studi 2 di piazza Giovanni Paolo II, caro Simone Grossi, buonasera a te! Ciao, vado bene con la voce? Spero di sì! Parla, guarda, parla dritto, caro! Mi sposto il mio bel Deblian, cosa devo dire, davanti così parlo benissimo! Un saluto anche a Francesco, bentornato! Francesco Dominici, barman del Caffè del Mar di Capaglio Scalo! Grazie, Franci, di essere qui con voi! Ciao, caro, buonasera! Grazie tante! Ricordiamo che i due video potranno essere visualizzati sulla pagina di YouTube a Drink on Air Video, basta scrivere Drink on Air come si dice, Drink, O-N-E-R, staccato, video, e potete visualizzare questa puntata e anche le precedenti e le future quando le caricherò. Un saluto anche al nostro ospite, vi faccio un ciao con la mano, non parlare, vi faccio solo un ciao così, Sì, perché questa sera avremo anche una novità, una piccola appendice, un'apertura al bombere, sempre al bombere del fermentato che fa buono il sangue, che è il vino, la nostra rubrica gestita da Francesco, in questo momento sta alle riprese, si chiama Il Re che decanta, abbiamo anche l'ospite per questa sera, che, sì, che dici, andiamo a presentare, ma ci giro intorno, adesso presentiamola, grazie, grazie from Carice con Fulore, da Carice, porco Carice con Fulore, scusami, ho il piacere di presentarvi Antonella Di Virgilio, dell'Agenda Il Ponte! Buonasera! Buonasera a te Antonella, come stai? Bene, grazie, sono contenta di essere qui con voi questa sera. Mi fa piacere, sei funzionata? Beh, insomma, è la prima volta che partecipo a un programma di radio, insomma, quindi sì. Mi fa piacere, tu suri? Sono solo io? Sono solo io, ok, sono solo io, perfetto, grazie, grazie Simo, e ti do anche in questo giro il circoletto rosso per non essere puntuale nella presentazione con il nostro amico Barry, ma va bene così, ancora problemi per me, e continuo a ridere, ti sto frustrando con la mano, ah, sto scherzando, ti ringrazio Simo, bene signori, le presentazioni le abbiamo fatte, noi ci vediamo tra pochissimo, facciamo il primo stop and go, e lo facciamo con Goran Bregomich, Kalashnikov, ahhh, la trincolea, su!